... Finisce 0-0 il primo derby stagionale al Pacifico Carotti tra Iesina e Recanatese. Su un terreno di gioco pesante a causa della pioggia scesa su Iesi dalle prime ore del mattino, le due squadre danno vita ad un derby agonisticamente valido, ma che lascia desiderare per azioni di gioco e qualità dei singoli. Arbita il signor Belfiori di Parma, la Iesina in campo con il solito 4-4-2, Margarita sostituisce l'acciaccato Pierandrei in attacco. 4-3-3 per la Recanatese con l'ex Giuseppe Negro che parte dalla panchina e il numero 10 Monachesi in avanti, classe 2001 da assegnare il suo nome. Parte meglio la Iesina al terzo minuto, Cameruccio recupera palla sulla tre quarti, serve Trudo, ma l'attaccante Iesino si porta la palla sul destro, prova la botta, calcia forte, ma la palla finisce alta. Dopo qualche minuto di studio è ancora la Iesina che parte in contropiede, con Cameruccio ancora una volta brillante sulla fascia destra che prova a servire Margherita, l'attaccante ex Fermana perde il tempo della battuta, prova comunque il tiro in porta, palla deviata in angolo. Sul capovolgimento di fronte si affaccia la Recanatese verso l'area Iesina al sedicesimo, un contropiede che costringe Tavoni al rinvio di piede. Poc'altro in questi primi 45 minuti di gioco, la partita diventa addirittura un pochino cattiva, due munizioni per i difensori della Recanatese, e al ventiseiesimo è ancora Trudo dalla destra a mettere la palla sul secondo palo, palla rimorchio per Magnanelli che prova il tiro, ma anche in questo caso palla deviata, e pochi problemi per Maraglino. Si va negli spogliatoi e chi si aspettava un cambio di passo nella seconda frazione di gioco rimane deluso. Squadre accorte, Iesina che tiene le linee molto corte e prova a ripartire, la Recanatese tenta di fare gioco, ma Palumbo isolato in avanti riceve pochi palloni e la manovra risulta comunque molto lenta. È sempre la Iesina a provare la via della rete all'ottavo minuto del secondo tempo con Cameruccio che prova lo spunto dal fondo, palla raso terra al centro, Maraglino blocca a terra. La Recanatese si vede due minuti dopo al decimo, uno schema da calcio d'angolo libera, Palumbo appena distante dal dischetto del rigore, prova il tiro ma la palla finisce al lato dopo una deviazione. Inizia il tourbillon dei cambi, la Iesina in cinque minuti effetto a tre sostituzioni, Giorni deve uscire e viene sostituito da Calcina al centro della difesa. Mister Gianangeli prova a dare verve sulle fasce con l'ingresso di D'Alessio e Giovannini al posto di Anconetani e Margarita. Margarita molto atteso, l'ex attaccante della fermana, applausi per lui e una condizione però ancora da cercare. Al diciannovesimo la Iesina prova la sortita offensiva su calcio d'angolo, palla vagante in aria, questa volta è parasecoli a cercare lo shoot ma la palla va fuori dallo specchio della porta. Al ventiduesimo è ancora Iesina e ancora contropiede con Trudo che viene lanciato in velocità, qualche imbarazzo per la difesa leopardiana, Maraglino di piede risolve la matassa. Al trentaquattresimo la Recanatese tenta di cambiare il volto alla partita, entra l'ex Giuseppe Negro, esce Palumbo, ancora cambi per la Iesina con Pierandrei che prende il posto di un generoso Kevin Trudo. Ma da qui alla fine non succede più nulla, le squadre sembrano addirittura accontentarsi del punto probabilmente anche dovuto al fatto di una condizione fisica che è andata scemando man mano per le due squadre. Un punto per uno quindi con la Iesina che ritrova un altro pareggio dopo il punto conquistato da Vezzano, mentre la Recanatese conquista un pareggio dopo la scoppola presa contro la Vispesaro in casa. due squadre che dimostrano ancora una volta tutta la poca pericolosità offensiva in due partite per entrambe le squadre, zero gol segnati e una Iesina che adesso è attesa dalla difficile trasferta di Immatelica ma comunque due squadre, dicevamo, che nel complesso dovranno rivedere schemi d'attacco per provare a dire la loro in questo difficile campionato di Serie D. Ribadiamo il finale, 0-0 tra Iesina e Recanatese.